bentornati a tutti ragazzi e buona domenica oggi partiamo subito con ethereum dollaro grafico quattro ore dati presi da coinbase vediamo qua quattro ore 240 questi sarebbero i minuti quindi iniziamo rapidi rapidi ethereum o ethereum magari correggetemi non ho mai ben capito qui la pronuncia esatta vediamo subito la formazione di questo qui siamo in quattro ore e questo è un ampissimo triangolo ascendente che si era formato l'avevamo anche mi pare già visto nell'analisi precedente poi ve la linko qui la trovate nelle schede quindi sicuramente ethereum a 400 dollari è una soglia molto ma molto importante teniamocela mente segniamocela con un bel livello vediamo quindi prima resistenza seconda conferma della seconda della resistenza statica breakout e retest il primo retest che ha spinto poi i prezzi sui primi massimi intorno a intorno ai 500 dollari quando poi il prezzo ha superato i 500 dollari che c'è stato diciamo il giorno fatidico diciamo un po del crollo che si è riscontrato un po in tutte le criptovalute dal bitcoin all'ethereum a tutte quante non è un caso guardate il prezzo dove è andato a reggire sulla soglia dei 400 dollari precisamente 402 questo ci va ad indicare che se possiamo anche spostarlo un po più in su infatti vediamo che combacia con queste precedente ombre quindi con il primo retest della rottura del triangolo ascendente questo ci va ad indicare sicuramente che i 400 dollari è una soglia sotto il quale ethereum non riesce più a scendere a un valore tale a un apprezzamento tale all'interno del mercato delle criptovalute per l'investitore per i trader che sicuramente è un supporto che resiste molto bene difficilmente sarà violato con facilità ad oggi il prezzo e ha fatto quindi dopo questo crollo la sua fase di respiro il prezzo sta tornando sui livelli intorno ai 500 dollari siamo ancora circa 24 dollari sotto lo vediamo parecchio rialzista scendo in h1 così che possiamo vedere un po nel più breve termine cosa succede ci aiutiamo ad aiutare oggi con gli strumenti di fibonacci per andare a avere una lettura del prezzo un po più dettagliata prima cosa da fare andiamo quindi a tracciare fibonacci la prima cosa da fare è capire da dove poter tracciare fibonacci non è banale soprattutto in una fase di prezzo come questa si potrebbe cadere in errore e quindi magari andare a tracciare fibonacci da qua giù da qua è sbagliato vi spiego il perché il prezzo da questo massimo sale fa il suo primo ritracciamento qui fase di respiro e continua a scendere ok molto molto semplice questa fase di rialzo qui potrebbe essere considerata un impulse leg rialzista è errato in quanto non è andata a rompere il massimo precedente questo era il massimo precedente con questo rialzo la gamba non l'è andato a rompere quindi questa qui non è altro che una fase di respiro una correzione di questa impulse leg ribassista da questo momento in poi rompe il massimo precedente allora sì questa è una impulse reg rialzista e quindi dulcis in fondo andremo a tirare fibonacci proprio da lì fatta quindi questa premessa che spero vi possa essere utile anche in futuro per poter utilizzare questo strumento nel migliore dei modi andiamo a tracciare fibonacci da dal minimo al massimo di questa impulse leg rialzista quindi tracciamo fibonacci dal minimo al massimo di questa impulse leg di questa gamba impulsiva rialzista vediamo che il ritracciamento di questa gamba si va a fermare proprio sul livello 0.38.2 di fibonacci per poi proseguire il suo rialzo un primo target quindi rialzista sicuramente ci può essere dato dall'analisi tecnica che sicuramente è questo la resistenza che si è generata a livello più o meno 520 dollari possiamo utilizzare però anche un altro strumento sempre di fibonacci per cercare di individuare un possibile target quindi cancelliamo i ritracciamenti andiamo a selezionare qui dal menu le estensioni estensioni di fibonacci estensioni di fibonacci si tirano più o meno lo stesso modo quindi si parte sempre dal minimo al massimo in più c'è un terzo punto quindi a b c dove c è il minimo del ritracciamento avevamo visto che il ritracciamento era caduto sul 0.38.2 tracciamo e guardate un po magia il livello 1.27.2 di fibonacci delle estensioni di fibonacci è un livello molto importante come target quasi coincide perfettamente con i 518 dollari i nostri 520 dollari di target che avevamo già visto prima grazie a questo massimo quando abbiamo quindi due conferme così che ci indicano come possibile target il raggiungimento di questo livello diventa veramente interessante è veramente una buona soglia magari per chi vuole fare trading un po più veloce per poter uscire dal prezzo considerando che già entrando a prezzo oggi quindi magari sul ritracciamento di questo rottura della resistenza il ritracciamento quindi sul supporto per prendere forza da qui più o meno dove siamo ora stiamo parlando di un incremento di circa il 10 per cento quindi niente male direi vedo personalmente questi non sono consigli di investimento non non buttatevi a capofitto a comprare ethereum solo perché avete visto questo video ci sono degli studi dietro che bisogna prima fare e poter padroneggiare a mio avviso vedo almeno ancora per oggi fino a stasera abbastanza rialzista l'ethereum un minimo di correzione e potrebbe raggiungere già il target entro il 12 il 13 di dicembre forse qualche giorno prima poi la buona attività è sempre alta ed è difficile prendere al giorno il target e il giorno secondo me più o meno entro una decina di giorni saremo di nuovo sulla soglia di 520 forse anche prima quindi probabilmente anche meglio e poi sicuramente su questa soglia ci potrebbe essere un ritracciamento una fase di respiro insomma di consolidamento un po accentuata per poi continuare ovviamente la sua salita per oggi è tutto vi ringrazio buona domenica oggi oggi è stato tardi questa mattina ho avuto un po da fare quindi colgo l'occasione anche per augurarvi buon appetito anche se probabilmente vedrete questo video che avete già mangiato vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali iscrivetevi quindi anche qui al canale di youtube in modo che una volta che siete iscritti vi arrivano le notifiche di ogni nuovo video e niente vi saluto e ci vediamo domani ciao ragazzi buona giornata